e condividiamo lo schermo ancora una volta. Quindi come vi dicevo, partiamo con la lezione di oggi, la domanda a cui rispondiamo è sempre quella di ieri e anche quella di domani. Quali sono le principali teorie del management? Oggi vedremo la scuola classica, quindi ancora altri contributi della scuola classica, dopo aver visto ieri quelli del management scientifico e poi vedremo la scuola comportamentale. Quindi i concetti chiari di oggi sono i principi di direzione, la burocrazia, le relazioni umane. In questa slide avete un po' più chiaro i contenuti della lezione di oggi. La teoria amministrativa di Fayol, che noi già conosciamo sostanzialmente perché è quello che ha teorizzato i quattro principi del management, la teoria della burocrazia di Weber, le critiche, scusate c'è stato un piccolo terremoto che è avuto in diretta, quindi tutto apposto. Questa è zona sismica, mi è tremato il computer. E poi l'approccio comportamentale, la scuola delle relazioni umane di meglio, la teoria X e Y di McGregor e le teorie di motivazione. Allora, andiamo a vedere, questo è il quadro complessivo che devo ringraziare il professore Galvagno perché ha rappresentato in questa slide visuale molto bene i contenuti di tutti i due capitoli in italiano che vi, appunto, vi diamo, che abbiamo dato. Approccio classico, approccio comportamentale, approccio contemporaneo. A che cosa? Allo studio del management, ok? L'approccio classico a, diciamo, dei protoromi importanti, quella che è stata la rivoluzione industriale, il pensiero di Adamo Smith, il management che fu fatto ai tempi degli egizi, ai tempi, diciamo, anche dei babilonesi, dei romani, insomma, per le grandi opere monumentali. Questo approccio classico ha dentro, diciamo, tre filoni. Il scientific management, il management scientifico che abbiamo visto ieri, la teoria amministrativa che cominceremo a vedere oggi e la burocrazia che vediamo oggi. Poi c'è un approccio comportamentale che fa vedere la scuola delle relazioni umane, la teoria della motivazione, la teoria dell'aspettativa, e poi l'approccio contemporaneo che vedremo domani con le teorie dei sistemi, delle contingenze e delle decisioni. Bella slide, ringrazio il collega perché l'ha resa utile anche per far vedere man mano, per organizzare man mano le lezioni. Andiamo, quindi, cosa stiamo facendo? Vediamo la teoria amministrativa dentro l'approccio classico, ok? Allora, mentre negli Stati Uniti Taylor metteva a punto la sua teoria, quella che abbiamo visto ieri del management scientifico, abbiamo avuto, diciamo, seguaci di Taylor nei coni G. Gilbert e altri ancora, cioè quelli che hanno ingegnerizzato, e quindi in questo senso, diciamo, lo interpretiamo come scientifico, hanno ingegnerizzato il management, negli stessi anni in Francia Fayol elaborava la prima teoria compiuta sulla direzione di impresa. E le due teorie, diciamo, affrontano ambiti diversi, quella dello scientific management di Taylor e quella di Fayol sulla teoria amministrativa, però sono in qualche modo complementari e formano un approccio unico, se possiamo così dirlo, riconosciuto come la scuola classica. Fayol, anche lui, guarda caso, era un ingegnere, ok? Lui dirigente di una società mineraria francese e pensava che il management fosse comune a ogni tipo di attività, dalla casa, quindi dal governo della casa, all'impresa, alla pubblica amministrazione, alla scuola, naturalmente la scuola in senso lato, anche l'università. Quindi il management esteso ad ogni tipo di attività. E la sua preoccupazione maggiore, derivante anche dal fatto che l'avevo osservato sul campo, è che la formazione dei manager, ma di questo in qualche modo aveva preoccupazione anche Fayol, era una formazione molto tecnica e poco gestionale. Cosa diceva Fayol? Cosa diceva Taylor? Cosa abbiamo detto di Taylor ieri? Che Taylor, studiando il management, si era accorto che c'erano poche innovazioni sul piano della gestione del lavoro, mentre le innovazioni riguardavano in particolare gli aspetti tecnici degli impianti, dei materiali, eccetera. Fayol si muove sulla stessa linea, fondamentalmente, si muove sulla stessa linea perché ritiene che la formazione dei manager nelle aziende, nelle grandi aziende, lui lavorava in questa azienda mineraria, che era sempre una formazione diciamo molto tecnica e poco gestionale, per cui i principi di Taylor, e Taylor riferiva alla fabbrica, al luogo fisico nel quale si ritrovano gli operai e svolgono le operazioni produttive, Fayol invece lo estende alla intera organizzazione e quindi a tutta l'impresa. E allora, ecco qui che secondo lui, le capacità manageriali si apprendono, quindi il manager non è che nasce tale, il manager lo diventa e le capacità manageriali si acquisiscono soprattutto con la formazione. E riprende il concetto di funzione introdotto da Taylor, abbiamo detto che a Taylor si deve, nell'approccio scientifico, nello scientific management, anche la visione di una impresa organizzata per funzioni, individua in particolare queste funzioni. La funzione tecnica, che fondamentalmente per ogni azienda è quella tecnico-produzione. La funzione commerciale, che è quella che riguarda in particolare tutta la parte degli acquisti e poi delle vendite. La funzione finanziaria, che riguarda la gestione, delle entrate, dei flussi finanziari, concetti che in qualche modo avete visto anche in economia. La funzione di sicurezza, nel senso lato degli impianti sul posto di lavoro, la funzione di contabilità, che poi è quella tipica della ragioneria, e la funzione che per lui era più importante, ovvero la funzione diretta. Quindi, ripeto, Payroll che cosa fa rispetto a Taylor? Si muove sulla stessa linea di Taylor, però estende i principi del terrorismo all'intera impresa. Mentre Taylor si soffermava in particolare sulla fabbrica, tant'è vero che i suoi studi sull'organizzazione scientifica del lavoro riguardano la fabbrica, e tant'è vero che poi Ford li ha applicati alla fabbrica, Payroll invece li estende a tutta l'organizzazione, a tutta l'impresa. Quindi la fabbrica, più fabbriche, nel caso in cui l'azienda abbia più stabilimenti, ma anche gli uffici, ma anche altre attività che si svolgono all'interno dell'azienda. E dice che le aziende si organizzano per funzioni. L'approccio ottimale è quello per funzioni. Ogni funzione ha compiti specifici, elenca le funzioni che sono quelle che abbiamo visto, e alla fine dice c'è una funzione più importante delle altre che si chiama funzione direttiva. A questo punto vediamo in che cosa consiste questa funzione direttiva. Secondo Payroll, la funzione direttiva non è prerogativa solo del top manager, cioè del vertice aziendale, ma compete in misura diversa a tutte le posizioni, quindi anche a quelle che abbiamo visto nei primi giorni, abbiamo chiamato di manager di prima linea, oppure dei middle manager, dei manager intermedio. La funzione direttiva si articola in cinque sottofunzioni, poi ridotte a quattro. Le cinque sottofunzioni sono la pianificazione, l'organizzazione, il comando, il coordinamento e il controllo, che poi ridotte a quattro sono la pianificazione, l'organizzazione, il comando e il controllo, cioè quelle di cui abbiamo parlato fin dalla prima lezione, nel management as process, ovvero la funzione del planning, la funzione dell'organizing, la funzione del leading e la funzione del controllo. Quindi, quando tutti i libri di management iniziano con queste funzioni e fondamentalmente i programmi di principi di management, i fondamenti di management in giro per il mondo hanno sempre questa impostazione, partendo dalle quattro funzioni, si riferiscono agli studi e alla teorizzazione di Fayolo. Quindi Fayolo si muove ancora in una ottica terroristica, però in un contesto diverso perché siamo in Francia e non siamo in Europa. Si accorge che i manager sono molto tecnici e poco pratici e poco pratici addirittura l'aveva visto nell'azienda per cui lavorava, nell'azienda mineraria, che a un certo punto un cavallo si era infortunato, non poteva più effettuare quelle operazioni titiche di trasporto che doveva svolgere dentro le miniere e non si sapeva chi doveva prendere le decisioni. Allora lui disse ma è mai possibile che in situazioni così importanti che sono quelle legate poi alla gestione di una miniera dove sapete che ci sono tanti rischi. Si infortuna un cavallo e nessuno prende la decisione più saggia che quella di sostituire il cavallo con un altro che sia più sano e che possa svolgere diciamo queste funzioni interne di trasporto. Allora da lì, come dire, gli viene il pallino di approfondire la funzione, le funzioni del management in particolare appunto quella che lui chiama la funzione direttiva. E per quanto qua ci siano quattordici principi che poi naturalmente li rivedrete più attentamente io ve li elenco mi soffermo però su quelli principali. Lui dice i manager devono studiare e questo non ci piava perché sono troppo tecnici e sono poco attenti alla gestione. Le capacità manageriali vanno acquisite e non sul campo in base all'esperienza ma bisogna studiare. Queste capacità manageriali si rifiliscono non soltanto al super manager, al general manager, al vertice ma possono tranquillamente riguardare anche altre figure manageriali. Il management consta di quelle quattro funzioni che abbiamo detto sempre e che sono sostanzialmente le funzioni tradizionali pianificazione, organizzazione, leadership e controllo però una dottrina di management perché possa essere elaborata e diventare oggetto di studio anche per i manager deve basarsi su questi 14 principi. Di questi 14 principi io vi invito a come dire prendere in considerazione tutti sicuramente ok? Però ce ne sono alcuni che ce le ricordiamo. Divisione del lavoro l'abbiamo visto ieri parlando di Adam Smith nel libro La ricchezza delle nazioni quindi il fatto che con la rivoluzione industriale soprattutto la seconda rivoluzione industriale si arriva ad una divisione del lavoro e a una specializzazione per compiti. Il principio dell'autorità ok? L'autorità formale che è quella a cui competono le responsabilità aziendali. La disciplina sembra come dire una nozione molto militaresca o militare perdonate il termine però la disciplina in azienda è importante. L'unità di comando l'unità di direzione quindi il fatto che ci debba essere una come dire catena di comando ben precisa per cui alla fine uno prende le decisioni un'unità di direzione ai massimi livelli. il principio scalare che tipicamente è quello gerarchico quindi dalle posizioni esecutive via alle posizioni di specialisti alle posizioni di first line manager alle posizioni di middle manager per arrivare poi in alto alla posizione di top manager la subordinazione degli interessi individuali è un interesse più generale l'interesse della fabbrica l'interesse dell'azienda l'interesse della multinazionale e quindi un ruolo del singolo all'interno di questo contesto organizzativo che però è funzionale ha un interesse di ordine più generale la remunerazione sicuramente la centralizzazione delle responsabilità poi nel top management l'ordine l'equità la stabilità del personale l'iniziativa e poi lo spirito di corpo lo spirito di squadra ora io in particolare mi volevo soffermare su due principi quello che riguarda la gerarchia perché secondo Fayol all'interno della struttura organizzativa esistono due tipi di manager i manager di line in linea che sono quelli tra di loro che hanno relazioni gerarchiche e i manager di staff che hanno invece competenze a supporto delle unità di line quindi organi di line organi di staff con questa figura che vi faccio vedere dovrebbe essere più chiaro vedete che l'organo di line sovraordinato è questo e a lui o a lei fanno capo fa capo l'organo di line sottoposto questa è tipicamente una relazione gerarchica di line questo è il top manager e questo sarà probabilmente il manager intermedio e quindi tra l'uno e l'altro c'è una linea di dipendenza gerarchica qui abbiamo invece un organo di staff e quindi se qui troviamo dei manager di staff saranno probabilmente dei manager che rispondono direttamente all'organo di line non hanno nessuno sotto come subordinato e quindi escono fuori dalla linea gerarchica la quale linea gerarchica potrebbe continuare se all'organo di line sottoposto ce ne saranno altri sottoposti ok l'organo di staff invece va per i fatti suoi perché funziona di staff di supporto alla direzione generale in questo caso a un pertice quindi spesso e volentieri all'interno delle aziende il manager delle risorse umane che è una figura manageriale che si occupa di gestire appunto il personale non è un organo di line ma è un organo di staff cioè va di staff alla direzione generale e basta è come se fosse un consulente interno della direzione generale mentre quando abbiamo tipicamente una organizzazione per funzioni che sotto sotto abbiamo il manager dell'area di produzione qua abbiamo il manager dell'area dell'amministrazione più avanti abbiamo il manager dell'area del commerciale questi sono subordinati alla direzione generale a loro volta avranno dei sottoposti e quindi abbiamo nelle aziende una relazione di line e una reazione di staff ok chi è stato il primo a studiare queste cose è stato proprio Feyeno anche lui con un approccio diciamo molto scientifico meno ingegneristico di quello di Taylor negli Stati Uniti ma altrettanto diciamo preciso e comunque lui stesso era un ingegnere altrettanto preciso di quello di Taylor se questo è chiaro vi risulterà chiaro un altro concetto che viene richiamato da Fayol quando io valuto le relazioni in linea tra chi sta sopra e chi sta sotto devo misurare lo span of control l'ampiezza di controllo che è data dal numero dei subordinati quindi questo che vediamo in questa slide è un esempio di ampiezza di controllo ristretta perché ad un top manager sono collegati in line quindi secondo una relazione gerarchica tre middle manager guardate invece in quest'altra slide lo span of control è più ampio al manager sono collegati quattro scusate sette altre figure e allora questo cosa significa che lo span of control è importante anche nell'esercizio di quella che è la funzione di coordinamento perché una cosa è se io sono un manager e sotto di me ho tre persone e rispondono a me ma è più facile controllare tre persone altra cosa è quanto lo span of control è molto ampio perché in questo caso il manager deve andare a controllare ben sette subordinati che magari a loro volta avranno altri subordinati in linea gerarchica collegati a loro quindi il tema dell'ampiezza di controllo è importante nel disegno di quello che è l'organigramma aziendale all'interno delle aziende si deve prestare particolare attenzione secondo Fayol ma anche quelli che hanno come dire sono venuti dopo Fayol si deve prestare particolare attenzione all'ampiezza di controllo perché ripeto una cosa è se io ho tre persone sotto di me per quanto siano manager ci siamo e a loro volta loro possono avere altre persone sotto però in questo caso il compito del director dove il director sarà il general manager sarà al massimo quello di coordinare e supervisionare tre manager proprio di che lui si ferma il suo compito è quello certo pianificherà dirigerà controllerà quello che abbiamo visto essere le funzioni direttive però come vedete il controllo si esercita solo su tre figure e quindi ha abbastanza presidi ampi altra cosa è se lo spanno controllo è ampio e quindi in questo caso il manager ha altre figure sotto di sé e quindi ha maggiori responsabilità di coordinamento quindi immaginate qui il top manager che deve controllare il manager uno che è quello dell'area commerciale il manager due è quello dell'area tecnica il manager tre è quello dell'area della contattività e poi immaginiamo che il manager dell'area commerciale deve coordinare il responsabile di vendita di un prodotto il responsabile di vendita di un altro prodotto quello che si occupa del marketing tradizionale quello che si occupa dei social media marketing quello che si occupa della comunicazione delle sponsorizzazioni diventa come dire estremamente complesso è vero che lui questo manager risponde direttamente in linea gerarchica a un superiore ma è altrettanto vero che a differenza del suo superiore che deve controllare al massimo tre persone lui o lei ne deve controllare sette e quindi ha un'ampiezza di controllo maggiore se vi è chiaro questo concetto vi è chiaro sostanzialmente quello che abbiamo detto qui nella slide line e staff quindi secondo e all all'interno della struttura organizzativa esistono due tipi di manager di line che hanno tra di loro relazioni gerarchiche e di staff le di staff sono diciamo equivalenti a consulenti interno di quelli di line dobbiamo andare a vedere qual è lo spanno controllo in questo caso lo spanno controllo è due ok perché all'organo di line sovraordinato in questa figura ce ne sono due sottoposti nella slide successiva invece ce ne sono tre nella slide ancora successiva ce ne sono sei maggiore lo spanno controllo più complicato poi diventa il lavoro di coordinamento perché devi controllare che assistant uno assistant due assistant tre così via facciano bene il loro lavoro rispettino gli obiettivi raggiungono questi obiettivi a loro volta guidino le persone al loro interno che sono subordinate e così via diventa estremamente complicato però questo approccio è un approccio un po' più razionale per questo è scientifico abbiamo detto ieri a conclusione della lezione che tutto quello che è lasciato all'improvvisazione all'esperienza non è razionalizzato non è scientifico secondo Taylor negli Stati Uniti e Fayol in Francia quindi in Europa a questo quindi abbiamo visto l'approccio dello scientific management di Taylor abbiamo visto la teoria amministrativa di Fayol in Europa ma queste due teorie sono abbastanza vicine abbiamo un altro contributo importante che è la teoria della burocrazia che si deve a Max Weber ora Max Weber è un sociologo quindi chi studia a scienze politiche e sociologia conosce benissimo Max Weber chi di voi se ne è occupato al liceo o negli studi di storia o di filosofia probabilmente perché magari è stato suggerito da qualche insegnante in generale Weber lo si studia poco nelle diciamo nelle facoltà e negli indirizzi di studio non tipo sociale ma è importante anche per la nostra materia perché perché Weber ripeto era un sociologo quindi non era un ingegnere non era un manager non aveva esperienza diciamo di azienda come l'avevano Taylor come l'aveva Gilbert come l'aveva Gilbert come lo aveva lo stesso Fayol Weber è un sociologo e il padre della sociologia delle organizzazioni e introduce il concetto di agire sociale cioè dice da sociologo che sapete che la sociologia rispetto alla psicologia studia i comportamenti dei gruppi mentre la psicologia studia il comportamento delle persone allora lui ti dice che è importante il concetto di agire sociale cioè il comportamento di qualcuno che è riferito o motivato dal comportamento degli altri ed è orientato nel suo corso quindi una persona che come dire svolge un lavoro semplicemente all'interno di una catena non sta svolgendo un agire sociale un insegnante un docente svolge un'attività che rientra nella sfera dell'agire sociale chi comanda svolge un'attività che rientra nell'agire sociale ok se io mangio soddisfo un bisogno ok se io lavoro per campare soddisfo un bisogno e non c'è un agire sociale ma se io insegno ok pensate a me in questo momento il comportamento di qualcuno ok che è motivato dal comportamento degli altri è orientato da questi nel suo corso quindi voi che in qualche modo siete motivati o comunque in questo caso anche dovete per dovere istituzionale seguire una lezione e quindi la vostra interfaccia è il docente e il vostro agire dipende dal docente ok da le cose che dice da come ve le dice da come deve portare un risultato eccetera la stessa cosa per chi esercita una funzione di comando pensiamo in questi giorni all'agire sociale influenzato dalle parole del presidente del consiglio che interviene in televisione che illustra i provvedimenti del governo che esorta gli italiani a stare a casa e così allora Weber era un sociologo lo riferiva in generale alla società però i suoi principi sono importanti anche per applicarli all'interno dell'azienda perché proprio secondo Weber gli individui nel definire i modi per raggiungere determinati scopi sono mossi dall'agire sociale da ruoli da regole da comportamenti di carattere generale ok quindi io vi devo portare allo scopo di studiare per sostenere l'esame sono mosso dall'agire sociale che è l'insieme di che cosa dei ruoli di regole la regola è seguire le lezioni ok da regolamenti di carattere generale io non vi sto dando delle indicazioni diverse ok quindi nell'agire sociale ci rientra anche molto il rispetto della legge perché io potrei dire se io ottiene questo obiettivo e ciascuno di voi come dire lo faccia in modo opportunistico no l'agire sociale significa che c'è una figura che influenza gli altri che motiva gli altri che diventa di riferimento per gli altri e che quindi in questo senso la sua sfera di azione è una sfera di agire sociale e qui entra il concetto di potere chi influenza esercita un potere io da docente sto esercitando un potere il presidente del consiglio esercita un potere il commissario straordinario della protezione civile esercita un potere il direttore dell'azienda ospedaliere esercita un potere ok questo potere che Weber studia e che è connesso all'agire sociale significa che attraverso il potere io faccio valere la mia volontà ok cioè il potere si manifesta nel momento in cui da qualche altra parte c'è chi è acquiescente è obbediente ok rispetta la volontà di chi esercita il potere e il potere ha basi diverse questo è un tema interessante che poi vi ritroverete se siete interessati nella materia del terzo anno nell'indirizzo di management che è la materia di gestione delle risorse umane perché perché proprio lì si parla di potere di leadership e di autorità formale e il potere appunto è la consiste nel far valere la propria volontà e quindi il potere ha come contro come dire come corrispettivo il l'acquiescenza l'obbedienza il rispetto delle regole della volontà di chi esercita il potere naturalmente c'è una forma di potere che è diversa da quella menzionata che è il potere di coercizione ti faccio fare una cosa sotto minacce a questo punto cosa succede tu fai la mia volontà ma solo perché temi una punizione ok quindi il potere una base del potere è la coercizione non è certamente di agire sociale e non è nemmeno di agire sociale in modo legato è legale però sapete che per esempio nelle dittature la la coercizione è stata utilizzata per come dire come base del potere un'altra base del potere è il carisma che è molto di carattere personale cioè il potere deriva dalle capacità del leader io faccio una cosa e quindi sono obbediente ma faccio la volontà del leader ma perché quel leader è carismatico perché quel leader mi motiva perché quel leader mi dice qualche cosa perché quel leader pur non essendo diciamo l'autorità formale però è fortemente ispiratore allora questo è sicuramente il potere tra virgolette migliore cioè il potere più personale perché il potere tradizionale il potere legale invece le altre due basi di potere sono di tipo impersonale quindi un potere che arriva da ordinamenti che deriva da ordinamenti e regole che discendono dalla tradizione il primo figlio maschio come erede del genitore del papà e quindi che acquisisce un potere che deriva dalla tradizione o dalle regole o da regole non scritte allora questo che cos'è è naturalmente un potere come gli altri però la base del potere non è nel carisma ma la base deriva dal fatto che c'è una regola che mi dice che il primo figlio maschio subentra al padre così come è avvenuto in molte società diciamo di tipo patriarcale e poi l'altro potere è quello legale deriva dal ruolo ok il direttore di dipartimento ha l'autorità formale di essere il capo del dipartimento il rettore è l'autorità formale che perché il suo ruolo è quello di capo dell'università ok allora il presidente del consiglio esercita un potere in quanto gli deriva dal ruolo che svolge il presidente del senato il presidente della camera ok esercitano il presidente della repubblica sono forme di potere cioè sono persone la cui base di potere deriva dalla legge ok e quindi in questo caso vengono definite autorità formali però se io parlo del leader carismatico che è che so l'allenatore della Lazio in Zaghi ok che pare che abbia un grande ascendente sui propri giocatori significa che questo potere cioè i giocatori fanno la volontà di in Zaghi gli deriva dal carisma e anche dal fatto che svolge un ruolo però il ruolo dell'allenatore non è mai quello di essere un capo ok il ruolo dell'allenatore deve essere in modo particolare quello che di leader quando assolve bene a questa funzione riesce ad essere veramente bravo io ho menzionato il libro di Marcello Lippi la squadra scritto all'indomani della vittoria dell'Italia mondiale di calcio del 2006 è molto bello perché si vede come Lippi di suo esercitava una leadership ma aveva bisogno di altri leader all'interno della squadra che potessero essere carismatici quanto lui e per esempio nel libro riporta il ruolo di Materazzi il difensore che diede la testata a Zidane perché aveva un grande ascendente sui giocatori in campo e Peruzzi il terzo portiere che era abbastanza anziano che lui se lo portò nella squadra non giocò mai ma siccome era una figura molto carismatica e riconosciuta da tutti come un leader nello scogliatore aveva un ruolo molto importante quindi capite che spesso la leadership in quanto base del potere è qualche cosa che si accatena coinvolge altri soggetti fa diventare veramente un team di successo un team in maniera come dire fortemente fortemente competitivo e fortemente di successo allora secondo Weber che come dicevo si è concentrato sulla agire sociale ha detto che ci sono alcuni comportamenti che differiscono dagli altri perché sono ispirati all'agire sociale ha detto che chi come dire opera questi comportamenti che effettua questi comportamenti esercita un potere ha dovuto incastrare tutti questi concetti l'agire sociale e il potere dentro un contenitore che è per lui la burocrazia quindi l'organizzazione dice Weber attenzione ripetisco Weber sociologo dell'organizzazione non aziendalista le organizzazioni dovrebbero essere strutturate in modo da fornire potere legale quindi un'autorità formale e il modo per farlo è la burocrazia la burocrazia si fonda su divisione del lavoro la gerarchia il rispetto della gerarchia quindi i ruoli che vanno dal superiore al subordinato e via via fino ai ruoli di tipo inferiore le regole all'interno della burocrazia per governare l'azione l'impersonalità delle relazioni significa che questa cosa si fa perché si deve fare non cambia se c'è tizio o caio e il lavoro fondato su qualificazione anzianità e questa come vedete è secondo lui la burocrazia è il sistema organizzativo che ha consentito alle organizzazioni militari di durare per tanto tempo all'impero romano di andare avanti e di diventare sostanzialmente quello che ricordiamo noi alla storia alla chiesa che è diciamo organizzata secondo un modello gerarchico alla pubblica amministrazione e così via secondo lui la burocrazia e quindi poi anche alle aziende secondo lui la burocrazia è il modo migliore perché un'organizzazione possa strutturarsi e dare potere legale legale non carismatico non derivante dalla tradizione ma un potere legale quindi con ruoli ben precisi che derivano appunto dalla legge la burocrazia è lo strumento ideale quali sono i principi della burocrazia divisione del lavoro e quindi qui non abbiamo nulla di nuovo rispetto a quanto aveva detto Adamo Smith nella ricchezza delle nazioni o quanto in qualche modo hanno ribadito anche Taylor e hanno ribadito Taylor e Fayol negli Stati Uniti e in Francia rispettivamente la gerarchia che è quella che abbiamo detto prima quindi basata su relazioni di line tra un manager e i subordinati le regole regole scritte procedure norme leggi ok l'impersonalità delle relazioni quindi il fatto che chi riveste un ruolo deve fare alcune cose e quel ruolo non è che come dire cambia perché cambia la persona perché il ruolo di un direttore generale deve essere questo il ruolo di un rettore deve essere questo il ruolo di un direttore di un'azienda ospedaliera deve essere questo e quindi e nelle relazioni che ha quei subordinati deve fare questo questo e quest'altro non può come dire metterci molto di proprio tra virgolette perché altrimenti renderebbe personali le relazioni ok quindi se io ho un subordinato quel subordinato deve rispondere a me ma se quel subordinato è un mio amico io non posso dire che non risponde a me perché noi siamo amici perché la burocrazia è talmente come dire invasiva come modello organizzativo che è basata su questa divisione del lavoro gerarchia regole e appunto impersonalità delle relazioni per fare questo il lavoro è prevalentemente a tempo pieno è fondato su qualificazione sanità e carriera tant'è vero che nella burocrazia man mano che si va avanti negli anni e si cresce in carriera si salgono si risalgono i livelli appunto gerarchici allora naturalmente voi potete immaginare che questo approccio che ha una sua logica ok che è una logica studiata dalla sociologia una logica studiata dalla politica è una logica che è stata studiata anche nelle teorie organizzative ha un punto di debolezza anzi parecchi punti di debolezza perché prima di tutto è molto rigida ok e queste sono le critiche che sono state rivolte in modo particolare da Merton che si è rivisto tutto il pensiero di il pensiero di Weber e ne ha individuato alcuni punti di debolezza ok prima di tutto rigidità di comportamento quindi al di fuori delle regole non si può fare niente e questo ha un suo vantaggio ma ha svantaggio ha uno svantaggio nel senso che se c'è una situazione nuova improvvisa e ci si comporta in un certo modo chiaramente la situazione improvvisa può determinare un momento di confusione c'è una forte enfasi sui controlli formali e sui regolamenti così è così si deve fare così lo hanno stabilito le leggi così lo hanno stabilito le regolamenti scarsa comunicazione e coordinamento perché a questo punto la comunicazione si basa prevalentemente sugli ordini mancanza di programmazione tendenza al conservatorismo perché il conservatorismo significa che queste pratiche e queste procedure diciamo si stratificano nel tempo pensate alle organizzazioni militari o alla chiesa che ha addirittura come dire regole millenarie e quindi a questo punto la leadership la creatività e l'individualità sono sacrificate ok quindi quando voi pensate a un modello burocratico immaginate il modello burocratico di una parato militare ok con le figure che vanno dal generale a scendere ufficiale poi via via agli altri l'organizzazione gerarchica della pubblica amministrazione anche se un po' la pubblica amministrazione ha cambiato ha dovuto cambiare perché si è dovuto adeguare l'organizzazione gerarchica della chiesa ok quindi c'è il papa ci sono i cardinali ci sono i vescovi poi ci sono i sacerdoti il sacerdote che nella diocesi risponde al vescovo deve obbedire ok gerarchicamente parlando e quindi se il vescovo lo sposta da una parrocchia ad un'altra deve obbedire nel senso che la parrocchia non è sua la parrocchia è una posizione che sta occupando nella qualità di sacerdote incaricata se il vescovo lo manda da qualche altra parte deve obbedire questo quali limiti ha quelli che stiamo vedendo qui ricordati da Merton cioè zero comunicazione zero coordinamento cioè scarso diciamo rigidità di comportamento così è così si deve fare così è scritto così si deve rispettare tendenza al conservatorismo ok mentre un'organizzazione che ha un modello diverso rispetto a quello della burocrazia chiaramente tende ad esaltare leadership creatività individualità quelle cose che Merton diceva che invece col pensiero di Weber con l'impostazione di Weber sono sacrificate quindi se questo vi è chiaro cosa dobbiamo dire che non è che Weber abbia detto cose sbagliate Weber ha detto io osservo alcune organizzazioni e alcune organizzazioni se resistono nel tempo come quella militare come quella ecclesiastica come quella amministrativa della pubblica amministrazione e sono strutturate secondo questo modo significa che è l'unico modo possibile organizzativamente parlando per far funzionare la organizzazione e quindi è l'unico modo per strutturarla e questo modo si chiama burocrazia ha una serie di vantaggi quelli che abbiamo visto in Weber ha una serie di svantaggi che sono quelli che Merton criticando Weber ha evidenziato a questo punto per essere chiari e per capire la differenza tra quello che dice Weber e le critiche che sono state rivolte da Merton quella di Weber è cioè la burocrazia è ispirata all'ottica della debbimento le critiche che fa Merton e soprattutto quelli che verranno dopo la scuola comportamentale e invece la critica dicendo la critica è basata sul fatto che l'ottica dell'attempimento molte volte non conduce a nessun risultato pensate a uno che come dire ecco poc'anzi c'è stata questa piccola scossa di terremoto piccolina un tremore io vivo in una zona che è stata colpita dal terremoto e cosa è successo che molti hanno avuto col terremoto del 2018 il 26 dicembre del 2018 le case distrutte alcuni fortemente danneggiate bene per arrivare al risultato di avere i soldi rimborsati e assegnati dallo Stato e per avviare le ricostruzioni c'è tutta una trafila di adempimenti burocratici da fare perché sono dovuti per legge allora che cosa succede che quando tu enfatizzi troppo l'ottica dell'adempimento non arriva a nessun risultato quindi è possibile come tuttora lo è che ci siano tante persone che hanno seguito tutta la trafila burocratica ma ancora non hanno visto né un quattrino per ristrutturare la casa un quattrino diciamo che gli è dovuto dallo Stato né hanno ristrutturato la casa ok quindi in questo caso come vedete l'ottica dell'adempimento e l'ottica del risultato fanno appunto ora Webber non è che fosse diciamo negasse l'importanza dell'ottica del risultato ma secondo lui l'ottica del risultato cioè raggiungere il fine era possibile attraverso una struttura gerarchica che si basasse sulla logica dell'adempimento invece i critici di Webber a partire da Merton dicono no guarda che troppa enfasi sull'adempimento blocca il risultato ok vediamo come in situazioni di emergenza come quella attuale l'ottica del risultato è più importante e alcuni passaggi di tipo burocratico sono saltati e notate o se avete notato nel decreto che ieri ha emanato il governo ci sta scritto che i medici possono una volta conseguita la laurea cioè laureato in medicina già immediatamente essere abilitati alla professione e quindi andare in campo ad aiutare gli altri medici e l'altro personale sanitario mentre questa è stata stabilita per legge diciamo per decreto derogando a quella che è il principio generale sempre diciamo stabilito dalla legge che per per esercitare devi essere abilitato e evitare gli stati e questo perché perché siamo in una situazione di emergenza in questo momento i medici e gli infermieri come se fossero in tempo di guerra i soldati sul fronte ne servono tanti per cui lo Stato ha deciso il governo ha deciso di saltare se volete di modificare l'ottica tradizionale dell'attempimento andando subito all'ottica di risultato ci servono medici ci serve personale paramedico quelli che già sono in possesso del titolo di studio possono essere assunti e possono andare in campo ad operare allora andiamo a vedere a questo punto l'approccio comportamentale quindi l'approccio classico che abbiamo visto fino adesso riguarda il management scientifico di cui abbiamo parlato ieri la teoria amministrativa di Feiollo di cui abbiamo parlato all'inizio della lezione e la teoria della burocrazia di cui abbiamo appena appena parlato andiamo all'approccio comportamentale già lo stesso aggettivo vi dovrebbe mettere in guardia che è un approccio che rispetto a quello classico molto basato diciamo sui contenitori guarda invece molto al contenuto e il contenuto sono i comportamenti delle persone ok quindi molte di queste teorie del management che si ispirano all'approccio comportamentale sono teorie che poi verranno richiamate anche in altre materie aziendali in particolare nella materia che vi dicevo si chiama gestione delle risorse umane che si insegna al terzo anno nell'indirizzo di management ok nell'indirizzo alternativo a quello di amministrazione a comprovi allora vediamo l'approccio comportamentale quali diciamo scuole di pensiero ha al suo interno la scuola delle relazioni umane la scuola delle teorie della motivazione la scuola delle teorie delle relazioni qui andiamo a toccare argomenti che sono un po' più vicini se vogliamo a quello che è il vostro vissuto perché magari i principi di scientific management si sembrano molto distanti abbiamo visto che il taylorismo diciamo è valido solo nelle fabbriche tradizionali esempi di taylorismo così rigido oggi ce ne sono pochi però è anche vero che anche con i video che abbiamo postato su facebook abbiamo fatto vedere che c'è anche un taylorismo diciamo applicato in aziende come amazon come walmart e così via la scuola delle relazioni umane è la prima che entra nell'approccio comportamentale e questa diciamo questa scuola nasce da una critica ai modelli tradizionali cioè i modelli tradizionali taylor feiol weber in particolare taylor e feiol erano basati sull'idea del one best way cioè esiste un unico modo non one best way significa un modo migliore e unico cioè il taylorismo l'approccio scientifico la fabbrica la catena di montaggio ispirati appunto a una logica di razionalità economica assoluta come criterio base della gestione quindi non sono ammesse altre alternative esiste un one best way questo one best way per taylor è la fabbrica per feiol sta nel management e nell'esercizio di quelle quattro funzioni per entrambi sta in fondo nella catena di montaggio per weber nella burocrazia e invece per gestire un'organizzazione gestire un'organizzazione dipende anche dalle situazioni di contesto una cosa è farlo nella cultura asiatica una cosa è farlo nella cultura europea una cosa è farlo in italia una cosa è farlo negli stati uniti una cosa è farlo in una piccola azienda una cosa è farlo in una grande azienda quindi molto dipende dalla situazione di contesto allora l'organizzazione a questo punto non viene più considerata come un sistema gestibile automaticamente secondo delle regole generali ma a questo punto ci sono diciamo anche delle regole particolari e quindi se le regole sono particolari significa che si dà maggiore peso maggiore importanza a quello che è il ruolo e il comportamento delle persone quindi differentemente da Taylor e da Fayol non si possono fissare standard di tempi e metodi uguali per tutti vi ricordate ieri l'approccio scientifico basato sui tempi sui costi standard ma a questo punto non si possono fissare standard di tempi e metodi uguali per tutti e quindi si dà enfasi al comportamento alla dimensione quindi il fine di un'organizzazione è sancita da alcune considerazioni la prima considerazione quindi secondo questa scuola diciamo comportamentale l'importanza della dimensione umana per cui le persone non sono oggetti come abbiamo visto nel film di Charlie Cervin ma sono soggetti e quindi hanno aspirazioni motivazioni percezioni bisogni emozioni eccetera è importante anche il contesto una cosa è lavorare in un ambiente chiuso una cosa è lavorare all'aperto una cosa è lavorare in un'azienda di piccole dimensioni una cosa è lavorare in un'azienda di grandi dimensioni una cosa è lavorare nel contesto culturale americano una cosa in quello tedesco una cosa è lavorare nel contesto italiano e poi il superamento di quel concetto di razionalità completa che era tipico del modello dello scientific management perché quel modello dicevamo ieri si basava su un concetto di razionalità completa le cose si devono fare in una certa maniera per raggiungere un determinato obiettivo questo obiettivo viene definito sulla base del one best way del modo ottimale altre alternative non ce ne sono questo è tipicamente un approccio che viene chiamato di razionalità completa mentre noi sappiamo che gli uomini sono dotati invece di razionalità limitata non è che possono sapere tutto di tutto ok? quando noi prendiamo le scelte facciamo una scelta che è la migliore non è la la migliore possibile in certe condizioni non è il one best way se voi siete finiti ad economia aziendale non è che rappresenti il one best way avete fatto la scelta di questo corso di laurea in modo razionale completo prendendo le informazioni di tutti i corsi di laurea in Italia pesandoli valutandoli scegliendoli in funzione di quello che sarà il vostro obiettivo lavorativo futuro questo è l'approccio razionale classico che naturalmente come dire non compete agli uomini gli uomini sono appunto persone che hanno una razionalità limitata e quindi in quanto hanno una razionalità limitata prendono decisioni anche basate sul contesto scelgo economia aziendale a Catania perché sono di Catania scelgo economia aziendale a Catania perché tutto il gruppo mio di riferimento di amici eccetera sono di Catania quindi questo è come dire l'approccio comportamentale enfatizza questo la importanza della dimensione umana l'importanza del contesto e il fatto che le persone non sono macchine mentre le macchine ipoteticamente potrebbero essere programmate come un calcolatore le persone no e quindi hanno una razionalità limitata ora questa scuola delle relazioni umane nasce dagli studi di Maio di Elton Maio e dai colleghi che insieme a lui fondono la scuola delle relazioni umane siccome lui è molto attento ai bisogni dei lavoratori non soltanto a quelli economici per Maio la motivazione non dipende solo dal denaro quindi la motivazione del lavoratore sul posto di lavoro secondo la scuola delle relazioni umane che rientra dentro questo approccio comportamentale non dipende dal denaro soltanto dipende da altri fattori perché i lavoratori sono persone e come tutte le persone hanno emozioni hanno aspettative hanno bisogni percezioni eccetera eccetera e quindi la necessità di considerare i bisogni non soltanto economici dei lavoratori l'aspetto sociale del lavoro le condizioni del lavoro viene appunto evidenziato dalla scuola delle relazioni umane ed è interessante perché si era partito da alcuni esperimenti che erano stati fatti alla fabbrica di Othorn alla Western Electric la Western Electric era una grande compagnia americana che aveva diversi stabilimenti uno di questi a Othorn dove fecero un esperimento diciamo studiarono il comportamento dei lavoratori per un arco di tempo abbastanza lungo guardando che cosa la relazione tra la luminosità dell'ambiente e la produttività del lavoro la produttività del lavoro ispirata alla logica dell'organizzazione scientifica di tipo tayloristico significa che come abbiamo visto ieri nel film di Charlie Chaplin se io vedo che tu puoi fare certe operazioni in un certo ammontare intervallo temporale ma mi rendo conto che ne puoi fare di più nello stesso intervallo temporale o addirittura come dire possiamo restringere l'intervallo temporale per fare le stesse questa produttività quindi ottenere il miglior risultato possibile a parità di risorse era tipicamente funzione dell'approccio tradizionale e allora lui studia lui diciamo ad Othorne si fecero questi esperimenti studiando la relazione tra la luminosità dell'ambiente e la produttività del lavoratore e si verificò che la produttività aumentava in ambienti più luminosi che meno luminosi quindi fecero la scoperta dell'acqua calda i lavoratori in ambienti più luminosi lavoravano ed erano più produttivi di quelli che invece si trovavano in ambienti meno luminosi a Othorne fecero questi esperimenti per otto anni studiarono questa cosa dopo che chiamarono Elton Maio per farsi spiegare come fosse questo e la spiegazione di Othorne scusate la spiegazione di Maio perché lo chiamarono perché questa alla Western Electric si applicavano i principi della scientific management se Taylor aveva in qualche modo detto che con la catena di montaggio con la divisione del lavoro con la specializzazione dei compi con l'organizzazione scientifica del lavoro si ottengono certi risultati i risultati dovrebbero essere uguali per tutti come mai producono di più e sono più produttivi quelli che lavorano in ambienti luminosi e sono meno produttivi quelli che lavorano in ambienti meno luminosi una cosa che per noi forse è abbastanza la palissiana chiamarono Elton Meio e si fecero spiegare il percorso e le conclusioni a cui arrivò Elton Meio furono le seguenti e infatti viene chiamato questo negli studi l'effetto Othorne l'attenzione da parte dei capi e il coinvolgimento delle persone e il coinvolgimento in programmi specifici aumenta la produttività quindi se il capo è attento si preoccupa di quello che fa il lavoratore il lavoratore produce di più è più produttivo se lo coinvolge in determinati programmi specifici il lavoratore è più produttivo la produttività dipende dall'ambiente sociale dipende dalla cooperazione quindi dal fatto che ci si aiuti o meno si ottengono migliori risultati se si considera il contesto personale del lavoratore il comportamento individuale dipende da tanti fattori non semplicemente dal rapporto causa-effetto che era stato studiato matematicamente diciamo da Taylor nella organizzazione scientifica del lavoro gruppi di lavori informali sviluppano proprie norme e proprie regole e quindi in qualche modo diciamo sono mediatori tra le esigenze individuali e di gruppo gli incentivi economici non sono i soli che influenzano la produttività cioè detto in parole semplici Maio viene chiamato alla Western Electric per capire come mai in otto anni di esperimenti si erano resi conto che i principi dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor facevano acqua perché quelli che lavoravano in ambienti più luminosi erano più produttivi quelli che lavoravano in ambienti meno luminosi erano meno produttivi Maio naturalmente come dire allarga lo studio e arriva alle conclusioni guardate che l'effetto luce è un affetto importante perché stiamo parlando di condizioni fisiche sul posto del lavoro però poi un lavoratore produce meglio rispetto a un altro più produttivo se come dire attenzionato dal capo se svolge se è coinvolto in programmi specifici se gli si danno incentivi non soltanto monetari quindi fattori che attengono anche la sua motivazione se lavora meglio in piccoli gruppi informali dove magari il piccolo gruppo informale ha norme tra virgolette interne che sono diverse o comunque diciamo aiutano a rispettare le norme di carattere generale se si attenziona molto anche diciamo la condizione lavorativa sul posto di lavoro tant'è vero che nel 1936 Charlie Ceprin esce fuori con quel film proprio esattamente per denunciare questo la famosa scientificità dell'organizzazione del lavoro di Taylor faceva acqua perché poi alla fine non è detto che il lavoratore sia assolutamente produttivo e motivato anzi nel film proprio c'è una denuncia di questo e vedete appunto abbiamo visto ieri nelle prime immagini del film che Charlie Ceprin era un po' alienato allora queste sono le conclusioni di meglio le quali conclusioni di meglio non sono un cambiamento totale delle logiche di Taylor ma un'integrazione cioè quel modello di Taylor va bene per dare un ordine da qui l'approccio scientifico ma non può essere stressato altremodo perché altrimenti i risultati potrebbero essere anche esattamente l'opposto come fu notato con gli esperimenti di Otorno vedendo che i lavoratori che lavoravano in ambiente luminoso erano più produttivi di quelli che lavoravano in ambiente non luminoso e gli studi di meglio aprono la strada a quello che è il filone dell'organizzational behavior che in America e in molti programmi di business administration una materia a sé stante quindi una materia si chiama organizational theory e una materia si chiama organizational in molte università americane io ho avuto modo di insegnare l'organizzational behavior che è una bella materia e gli studi di meglio sono quelli che fanno da apripista al comportamento organizzativo l'organizzational behavior perché dicono enfatizzano la conclusione che i risultati di un'azienda di un'organizzazione che dir si voglia dipendono dalla capacità di favorire lo sviluppo delle persone ora a noi sembrano cose abbastanza come dire spuntate oggi nel 2020 una qualunque azienda funziona bene se le persone sono motivate un'azienda va male se le persone non sono motivate una squadra di calcio va bene se i calciatori sono motivati una squadra di calcio va male se i calciatori possono essere anche puri classe non hanno una motivazione a noi sono cose abbastanza diciamo elementari però per noi sono abbastanza diciamo scontate però mettetevi nei panni di chi allora anni 20 anni 30 aveva come unico credo se volete quello dei principi dello scientific management e quindi della divisione del lavoro della specializzazione dei compiti dell'organizzazione scientifica del lavoro stesso della della catena di montaggio e invece poi si ritrovavano anche con situazioni diverse lavoratori non produttivi risultati che non venivano conseguiti eccetera guardate che ci sono tante sono stati tanti problemi anche in Ford Ford fece il miracolo di realizzare la macchina per un mercato di massa attraverso la catena di montaggio ma dopo un certo numero di anni cominciò ad avere problemi sindacali all'interno della sua azienda perché i sindacati chiedevano molte protezioni a tutela del lavoro dei lavoratori perché diventavano alienati e così via via il film di Charlie Chaplin è una fotografia di quelli che erano nel 1936 i problemi che vivevano le grandi aziende americane macchine infernali che producevano risultati ma che poi alla fine finendo per alienare i lavoratori non ottenevano nemmeno quello che lo stesso Taylor con lo scientific management si era prefisso di raggiungere e quindi da quel momento in poi si sviluppano concetti che a noi oggi sono più vicini l'empowerment cioè dare potere alle persone il team building costruire il team il coaching il mentoring la risoluzione dei conflitti eccetera e qui è interessante sempre l'applicazione di questi concetti a cose che a noi sono più vicine nel libro La squadra Marcello Lippi dice che lui usava molto la tecnica dell'empowerment cioè dava responsabilità alle persone viene raccontato nel libro che quando l'Italia andò ai calci di rigore con la Francia e lui doveva scegliere le cinque persone che avrebbero dovuto battere i calci di rigore fra queste scelse Grosso Grosso era un giocatore operaio se vogliamo un terzino che non è che poi fosse così famoso però aveva fatto un gregario aveva fatto bene il mondiale e lui lo mise a tirare per ultimo il calcio di rigore e quando fece questa sequenza si vede una pacca sulla spalla Grosso dicendo tu sei quello che hai risolto all'ultimo tutte le partite decisive dell'Italia le ultime partite decisive sarai decisivo anche qui perché perché Grosso era stato il calciatore che aveva procurato il calcio di rigore con cui l'Italia battè l'Australia Grosso fece il gol alla Germania a cui poi fece seguito il gol di Del Piero e voi allora eravate piccolini perché stiamo parlando del 2006 e poi Grosso fu quello che dirò l'ultimo calcio di rigore decisivo con cui l'Italia vinse ora stiamo parlando di un giocatore il quale certamente non era un fuori classe come può essere Ronaldo però in quel momento fu responsabilizzato energizzato gli fu dato power l'empowerment è questo per cui l'Italia poi alla fine con una squadra tecnicamente diciamo più modesta rispetto alla Francia rispetto alla stessa Germania vinse in Italia e naturalmente in quel libro lui spiega anche come ha creato il team building il coaching il mentoring come ha risolto i conflitti potenziali all'interno dell'organizzazione come in qualche modo come dire conflitti che si hanno normalmente in una squadra di calcio in una nazionale di calcio lui rischia da sedarli eccetera ora per noi sono ripeto concetti abbastanza scontati oggi cioè dare importanza alle persone ma ripeto portiamo indietro l'orologio ad un secolo fa poco meno di un secolo fa quando l'unico vangelo tra virgolette per le aziende era quello di Taylor e nonostante tutto lo scientific management non sempre produceva risultati buoni allora Mayo e la scuola delle relazioni umane introducono questo elemento importante del comportamento delle persone non smettendo completamente Taylor non c'è dubbio però integrandolo con questa attenzione alla componente umana a questo punto andiamo a vedere dopo la scuola delle relazioni umane un'altra scuola che è la teoria delle motivazioni chiedo un attimino a qualcuno dato che sto parlando ininterrottamente da un'ora se stiamo andando bene si stanno vedendo le slide è tutto chiaro tutto bene tutto chiaro nessun problema perfetto oggi è una giornata straordinaria io però sono morto perché è un'ora di seguito che parlo però poi ci fermiamo e facciamo qualche commento tra le teorie vedete la motivazione quella più famosa è di Maslow Maslow era un psicologo che ha realizzato ha disegnato ha strutturato questa piramide dei pisoni che è molto nota si studia tantissimo la ritroverete in tante materie anche nel marketing e così via secondo Maslow è la motivazione quella che spinge le persone ai risultati quindi se guardiamo alla dimensione umana è importante tutto quello che ha detto il terrorismo ma quello che fa la differenza è la motivazione questa motivazione dipende dai bisogni e da come le persone via via scalano questa piramide dei bisogni e quindi secondo lui esiste una piramide che parte dai bisogni fisiologici per ciascuna persona respirare alimentarsi i bisogni sessuali il sonno l'omeostosi quindi il raggiungimento poi i bisogni di sicurezza sicurezza fisica di occupazione sicurezza familiare di proprietà poi via via ci sono i bisogni e questi sono i bisogni primari poi ci sono i bisogni di appartenenza l'amicizia l'affetto familiare e anche la parte dell'intimità diciamo che attiene al rapporto diciamo con la persona quindi mentre il sesso diciamo più istintivo come bisogno primario quando parliamo dell'intimità sessuale stiamo facendo riferimento invece a un bisogno sociale perché comunque mi interfaccia con un'altra persona e poi via via i bisogni di stima per esempio l'autostima la stima di se stessi l'autocontrollo la realizzazione il rispetto reciproco per poi arrivare al vertice della piramide che è il bisogno di autorealizzazione di moralità di creatività di spontaneità eccetera allora come si interpreta questa piramide si interpreta dicendo che le persone sono motivate a salire questa piramide man mano che soddisfano i bisogni di livello inferiore mi procuro da mangiare perché mi soddisfa il bisogno fisiologico mi procuro un lavoro perché mi soddisfa il bisogno di sicurezza ok con un lavoro anche minimo posso come dire sbarcare il lunario si dice e quindi avere una casa farmi una famiglia eccetera e poi via via no man mano che io cresco cerco di scalare questa scala della questa piramide dei bisogni fino ad arrivare poi a scegliere cose che mi motivano solo quando mi consentono di autorealizzare allora una piramide molto interessante con qualche limite perché non è detto che le persone oggi cercano il lavoro perché semplicemente hanno bisogno di soddisfare i bisogni di sicurezza i bisogni fisiologici probabilmente molti giovani cercano subito lavori che li possano autorealizzare e come dire farli crescere anche nella stima però in questo momento in particolare in questi giorni di crisi guardate che la piramide di Maslow torna molto utile perché in questo momento noi ci sentiamo obbligati e motivati anche a rispettare le cose che ci dice il governo perché abbiamo bisogno di soddisfare fisiologico e di sicurezza soprattutto dove nel bisogno di sicurezza c'è la salute allora per alleggerire un po' come dire i contenuti di questa lezione vi faccio vedere quella che io ho trovato la piramide di Maslow 2.0 come bisogni digitali della vostra generazione dove il bisogno fisiologico è vediamo se mi aiutate avere sempre la batteria avere un computer avere il telefono avere la linea e avere il wifi questi sono considerati fisiologici poi i bisogni di sicurezza Google la posta e i programmi aperti compreso le wifi aperte poi andiamo ai bisogni che appunto nella piramide di Maslow vengono chiamati di appartenenza che io soddisfo attraverso Skype attraverso Facebook attraverso Whatsapp e poi abbiamo i bisogni di stima attraverso naturalmente Snapchat piuttosto che Twitter e Instagram e poi i bisogni di self-actualization quindi di autorealizzazione e ce l'ho usando YouTube usando LinkedIn usando Pinterest oggi ci potremmo mettere anche TikTok mi sembra anche abbastanza divertente l'ho trovata in rete l'ho condivisa nella mia pagina paracidi didattica ho avuto un mare di condivisioni perché la piramide di Maslow i ragazzi cominciano a studiarla sin dal primo anno di economia aziendale e ci convivono fino alla fine con marketing però ritrovarsela in questa maniera è abbastanza carino allora abbiamo detto Mintzberg scusate abbiamo detto la piramide di Maslow un altro studioso che occupa di guardare la motivazione è Herzberg per Herzberg l'ipotesi di fondo era quella di non considerare soddisfazione e insoddisfazione di una persona come due estremi di un'unica dimensione ma come due dimensioni separate e differenti cioè come se ognuno di noi avesse un certo grado di soddisfazione e un certo grado di insoddisfazione nelle cose che fa poi in questo momento nel seguire la lezione non posso dire se siete soddisfatti o se siete insoddisfatti sarete soddisfatti al 50% e insoddisfatti al 20% allora questa viene chiamata teoria dei fattori duali e lui definì queste due dimensioni diciamo separate come i fattori igienici e i fattori motivati quindi i fattori igienici sono legati alle condizioni di lavoro alla retribuzione all'ambiente fisico all'ambiente social i fattori motivanti invece sono legati al contenuto al lavoro alla crescita al contenuto del lavoro alla crescita personale quindi con i fattori duali Herzberg ti dice il lavoratore è soddisfatto perché in funzione di fattori igienici che sono legati alla retribuzione a dove lavora se dove lavora in un ambiente salubre oppure no e poi anche ai fattori che attengono al contenuto quello che fa se è creativo certamente soddisfa di più di una cosa ripetitiva se ti fa crescere ti motiva maggiormente da una cosa che invece devi fare sapendo che non puoi crescere e infatti l'applicazione di questi fattori duali all'interno dell'azienda guardando nell'ottica del manager che deve coinvolgere i suoi collaboratori è la seguente il manager potrà evitare l'insoddisfazione dei collaboratori agendo sui fattori igienici ma questo non genera motivazione cioè se io ti do i soldi i soldi mi li devi dare se io devo lavorare in condizioni di sicurezza se non mi fai lavorare in condizioni di sicurezza io sono insoddisfatto pensate oggi quanti non possono negli ospedali o addirittura quelli del 118 che non hanno nemmeno le mascherine di protezione a questo punto di che parliamo io sono insoddisfatto perché il minimo non è garantito ma il minimo che cos'è le condizioni fisiche ok mentre se noi andiamo a guardare quello che realmente fa stare bene il il lavoratore non è il fatto che abbia la mascherina o che sia pagata perché quelle tra virgolette come se fossero condizioni di default che purtroppo spesso non sono di default per cui quando non ci sono il lavoratore è insoddisfatto ma diventa come dire motivante qualcos'altro cioè la caratteristica del lavoro che viene svolto se è creativo la crescita professionale se c'è la possibilità di successo se c'è responsabilità se io ti metto al call center e ti faccio fare sempre una serie di cose io non mi motivo poi magari non sarò insoddisfatto perché posso lavorare e sono pagato sono in un ambiente pulito le cuffie con cui parlo sono a norma di legge ogni 8 ore di lavoro al call center mi viene consentito quindi di lavoro diciamo al telefono mi viene consentito un quarto d'ora di riposo queste sono condizioni che incidono sulla insoddisfazione ok nel senso che se non ci sono mi rendono poco soddisfatto però pensate un operatore di call center se fa sempre le stesse cose questo tipo di lavoro non lo motiva se non vede opportunità di crescita questo lavoro non lo motiva quindi guarda solo al primo livello e si ferma solo all'insoddisfazione la riduce al minimo nella misura in cui i fattori igienici sono rispettati mentre come dire la sua motivazione cresce se appunto la sua soddisfazione cresce se i fattori motivanti ci sono sono presenti e lo incentivano quindi qual è la differenza rispetto a Maslow Maslow ti dice la motivazione dipende dai bisogni a mano che tu hai un bisogno lo soddisfi e sali questa scala gerarchica Herzberg ti dice no guarda che la cosa è diversa le persone devono essere valutate in termini di insoddisfazione e disoddisfazione contemporaneamente ciò che è determinante sulla insoddisfazione è il mancato rispetto di quelle che sono le condizioni igieniche tra virgolette dove per l'igiene ci mettiamo anche alla retribuzione quindi le condizioni di default quello che invece porta soddisfazione sono i fattori motivanti che attengono proprio alle ambizioni delle persone al senso di responsabilità alla voglia di crescere ecc sulla motivazione c'è pure anche una teoria che è quella di McClilland che ti dice che la motivazione dipende da tre fattori il bisogno di affiliazione il bisogno di acisme e il bisogno di potere più tardi io vi posterò il test di McClilland e voi dovete farlo e darmi poi i risultati e domani questi risultati li commenteremo cioè i punteggi che vengono fuori da questo test che è molto interessante perché è un'altra teoria oltre a quella di Basel oltre a quella di Herzberg che come dire guarda alla motivazione sono chiamate queste le teorie contenutistiche della motivazione chiaramente poi teorie della motivazione ce ne possono essere tante altre no la famosa il famoso detto popolare del bastone della carota è tipicamente un approccio motivazionale non bastone nella misura in cui come dire ti obbligo ti esorto a rispettare delle regole e carota come premialità la teoria sempre nell'approccio comportamentale oltre alla scuola delle relazioni umane di meglio alle varie teorie di motivazione che abbiamo visto c'è la teoria dell'aspettativa e degli stili di direzione e qui chiamiamo in campo McGregor perché McGregor invece diciamo affronta il problema del rapporto tra i manager e i collaboratori distinguendo la teoria X che fondamentalmente è la teoria basata sull'approccio di organizzazione scientifica del lavoro quindi di scientific management e la teoria Y che è la teoria comportamentale vediamole per la teoria X i lavoratori tendono a fare il meno possibile secondo l'approccio di Taylor dell'approccio scientifico del lavoro perché devono essere comandati costretti a lavorare non hanno ambizioni sono motivati solo dalla sicurezza cioè fammi fare quello che devo fare purché sia fatto in condizioni di sicurezza quindi se il manager applica la teoria X deve controllare i lavoratori dagli compiti piccoli ripetitivi senza responsabilità e dando incentivi economici perché sono lavori molto usuranti ok per la teoria Y invece che è molto basata sul comportamento l'uomo non rifiuta il lavoro perché può autocontrollarsi l'impegno che dà e correlato alle gratificazioni che riceve non solo economiche ma anche di autostima e di autorealizzazione si prende le proprie responsabilità quindi in altri termini se il lavoro è un lavoro usurante ripetitivo molto figlio della logica dell'organizzazione scientifica del lavoro per tenere buoni lavoratori ma buono nel senso letterale del termine io devo garantire le condizioni di sicurezza pagarli e dargli anche qualche incentivo economico dargli piccoli compiti perché sono ripetitivi basta non è che gli posso dire tu puoi avere come dire gratificazioni particolari perché fai lo spazzastrade lo spazzastrade è un lavoro molto ripetitivo devi fare quelle cose lì per cui ti devo garantire la sicurezza ti devo garantire i soldi e ti devo devi fare una serie di piccole cose è chiaro e ora capite bene quando i cosiddetti neturbini fanno sciopero perché non ricevono i soldi non è perché non sono motivati è perché per la teoria X il manager non ottempera a quelli che sono come dire le condizioni minime mi devi pagare e mi devi far lavorare in sicurezza se non mi paghi e non mi fai lavorare in sicurezza io faccio scioper non mi chiedere motivazione perché nel fare un lavoro piccolo e ripetitivo l'unica motivazione tra virgolette sono i soldi che li devo ricevere e basta non mi assumo altre responsabilità invece se io dicessi a qualcuno di voi senza dare l'incentivo economico domani qualcuno prende il mio posto e fa la lezione è chiaro che sarà per voi anche un costo perché dovrà lavorare si dovrà preparare le slide non vi do nemmeno una lira però voi dite mi sta facendo crescere è una cosa che mi motiva è una cosa che mi stimola è una cosa a qualcuno chiaramente ok è qualcosa che mi rende più creativo che mi fa crescere in responsabilità e mi dà autostima e autorealizzazione per cui la c'è ok questa secondo me è come dire una questa approccia diciamo della teoria X la teoria Y ti contrappone molto bene quello che era l'approccio scientifico di Taylor con questi approcci più comportamentali in base alla teoria Y quindi non alla teoria X i manager dovrebbero condividere le proprie decisioni i collaboratori dovrebbero dare feedback continui dovrebbero permettere loro di auto-organizzarsi e da qui derivano i cosiddetti stili di direzione che secondo McGregor sono quattro quattro lo stile è tipicamente autoritario io do ordini e tu li devi eseguire e qui con la teoria Y c'entrano poco lo stile paternalistico che è quella del padre che fa crescere ti devo dare un consiglio ma ti devo anche richiamare accetta il rimprovero ma accetta anche il consiglio anzi chiedimi consigli perché questo ti fanno crescere però non te la prendere quando ti rimprovero perché questo è tipicamente diciamo lo stile paternalistico lo stile consultativo invece è lo stile nel quale il manager si consulta prima di prendere le decisioni e lo stile partecipativo invece è quello in cui si partecipa tutti insieme a prendere le decisioni ok se io dovessi dire voglio sentire voi per stabilire la data di fine corso io lo sento e mi consulto poi deciderò io la data di fine corso se invece io dico decidiamo tutti insieme la data di fine corso che con 200 studenti diventa un casino quindi avremo bisogno sicuramente di un programma che meccia tutte le nostre preferenze lo stile diventa partecipativo ok se lo stile è autoritario io vi fisso una data quella è quella dovete diciamo rispettare se lo stile se fossi un manager se lo stile paternalistico in qualche modo vi accompagno con l'atteggiamento tipico del pater familias che è quello di dare consigli ma anche di effettuare dei richiami dei rimprovi e questo è quello che noi oggi abbiamo visto in questa lezione sulla teorie di management che completano quelle dell'approccio classico e l'approccio comportamentale a questo punto io interrompo la condivisione e interrompo anche la registrazione perfetto che a questo punto oggi dovrebbe essere andata a buon fine salvo